Un anostop su Radio Radicale per ricordare Marco Pannella, lo storico leader radicale che proprio oggi avrebbe compiuto 90 anni. Daniele Rotondo. Io sto avvisando chi ci ascolta. Travestito da fantasma, un frammento della genialità comunicativa di Marco Pannella. Era la primavera del 1997, erano tempi di referendum, uno dei suoi cavalli di battaglia. Come gli scioperi della fame, gli atti di disobbedienza civile. 11,2 minuti, questo è Radio Radicale. Radio Radicale ha 4 anni dalla morte di Marco Pannella, lo ricorda in una maratona sulle sue frequenze. Vi faccio gli auguri perché sono convinto che lui sia un'ombra colorata dietro le nostre spalle. Un provocatore di coscienze, decisamente rock. Marco Pannella non ha eredi, sostiene Maria Antonietta Farina, istituto Luca Coscioni, che allo storico leader radicale invia una lettera aperta sottoscritta da decine di esponenti della cultura, della società e del giornalismo. Un ex segretario radicale, invece, lo ricorda così. Non si può sapere che cosa avrebbe detto e fatto in questa emergenza. Quello che è certo è che avrebbe tenuto ferma la barra sui diritti umani fondamentali, sulla nostra Costituzione, sul diritto alla conoscenza dei cittadini italiani.